Curare e prendersi cura delle persone, non solo un'azione che può realizzarsi con la somministrazione di un farmaco, ma anche attraverso la comunicazione e la relazione che diventano elementi indispensabili per elaborare e gestire la reazione del paziente alla patologia riscontrata. Si è parlato di questo e altro durante il XII congresso organizzato dall'Associazione Italiana Donne Medico, che ha portato a raccolta Medice e non solo nella sala conferenza dell'ospedale Sant'Elia. L'avere la comunicazione con il paziente aiuta anche nel modo di accettare la terapia, anche in miglioramento nei risultati che la terapia stessa effettua sulla patologia. L'accettazione sicuramente aiuta nell'avere cura della stessa persona. A molti malati gli dai anche una piccola percentuale di miglioramento, loro sicuramente si sentono più gratificati e accettano meglio tutta la patologia in corso. La comunicazione in medicina è fondamentale perché dal modo come si comunica parte quella che è l'empatia tra paziente e medico e curante. Per quanto riguarda questo genere di rapporto, che è un rapporto ovviamente di forte asimmetria, è una simmetria di tipo professionale, una simmetria di tipo emotivo, nel momento in cui si accede a un qualunque tipo di diagnosi e successiva terapia, occorre che questi principi in qualche modo vengano messi in pratica in maniera consapevole. Innanzitutto dal punto di vista della chiarezza, quindi dal punto di vista dell'intellegibilità, perché non tutti sono in grado di comprendere e anche quando si è in grado di comprendere in un momento di particolare stress emotivo, occorre che gli elementi a disposizione per poter accedere a quel tipo di informazione siano i più semplici possibili e più chiari possibili. Comunicare e comprendere la sofferenza del paziente attraverso non solo un approccio farmacologico ma anche psicologico è stato inoltre un altro degli argomenti affrontati durante il convegno dallo psicoterapeuta e psichiatra nisseno Michele Cannavò. La comunicazione è fondamentale, è fondamentale perché ci permette di raggiungere l'altro. La comunicazione non è solo una comunicazione verbale come vedrete all'interno di questo incontro ma la comunicazione è spesso corporea, la comunicazione è quel mezzo che ci permette di incontrare l'altro e a volte non sempre è così semplice, non sempre è fatta di parole, quindi spesso dobbiamo stare lì anche nel silenzio. Riuscire attraverso il silenzio a accogliere quei minimi gesti, quei minimi movimenti che ci permettono di costruire quel ponte, quel minimo ponte che permette di raggiungere lentamente l'altro e poi pian piano sperare che possano emergere delle parole, delle parole che hanno dei significati che racchiudono il dolore, la sofferenza o quello che la persona porta durante una sessione terapeutica.